Io intendo sottolinearmi brevemente sulle forme della sottolineazione politica nel quadro della governamentalità neliterale. Vorrei mostrare come esse si costituiscono in modo amivalente i casi dispositivi di inclusione e l'incremento delle vite e dispositivi di esclusione, il cui fondamento rinvia la costruzione simbolica e ideologica dell'alternità. A questo scopo, per provare a ottimizzare il tempo a disposizione, vorrei focalizzare l'attenzione su un caso concreto analizzato da Aiva Mulder, un esempio a mio avviso che aiuta a comprendere questa ambivalenza che si spinge fino alla decostruzione delle soggettività identitarie, al cui posto invece appaiono forme di relazione e di pratica immobili. Si tratta dei comportamenti, che è abbastanza noto, cioè nel caso abbastanza noto, nel testo di Hong del 2003, diciamo dei comportamenti dei rifugiati cambogiani in fuga dal regime di polpotti. Questi trasferendosi in un contesto occidentale che gli Stati Uniti intraprendono una serie di politici per diventare buoni cittadini, sto citando Hong, assoggettandosi ad una rete di uffici di governo, scuole di formazione professionale, ospedali e luoghi di lavoro. È un esempio, potremmo dire, di reidentificazione che non può non installarsi in un processo di deidentificazione, processo almeno parziale rispetto al codice simbolico e a rete immaginarie di origine. Queste persone si piegono ad una definizione nuova, in qualche modo si assoggettano ad essa, ma anche per molti versi reinventano attivamente la propria verità. La loro soggettivazione viene a formarsi entro un nuovo contesto, ma rispetto ad essa si rivelano capaci di tracciare allo stesso tempo percorsi alternative, strategie di resistenza. Il luogo concettuale della governamentalità, l'assoggettamento e l'assoggettivazione trova quindi qui una esplicitazione particolarmente evidente e interessante. Non si tratta di resistenza frontale, al contrario nel momento stesso in cui esistiamo l'assunzione consapevole del contesto giuridico di diritti e di obblighi, si mette in onda la pratica mirata a sottarsi alle tecniche governamentali di controllo. La riferenza culturale e la provenienza spazialmente così lontana permette comunque una forma di distanza nel processo di assunzione delle giuridificazioni. Una distanza che non si realizza il discorso o l'organizzazione, ma in pratiche subpolitiche. Si tratta di pratiche che pur interno alla logica della governamentalità e del diritto finalizzata di includere quegli stessi individui, allo stesso tempo quella logica raffinano, raffinano, imprimendo ad essa direzioni alternative e finalità differenti rispetto dal progetto di assimilazione messo in atto dal governo americano. La nozione chiare di cittadino viene riconosciuta ed accettata come garanzia e come forza, ma viene inserita praticamente anche in un processo di rilocalizzazione e riallineamento di se stesso, dove i codici simbolici, lo Stato e il mercato in primo luogo, con i loro regimi di verità, colpi alla normalizzazione del controllo, vengono piegati, ibridati e svuotati nel loro obiettivo. ONG, naturalmente seguendo Foucault lo dicare esplicitamente di nascere della biopolitica, assume come ritenimento il contesto nordamericano proprio perché è quello che ritiene giustamente la logica governamentale dell'on-economicus, dell'imprenditore di se stesso. La societazione che si innesse in questo contesto viene regolata su questo standard comportamentale. Eppure è proprio qui, nelle problematiche che emergono da una società multitudinale transnazionale, esigenza una, come dire, trascrizione della cittadinanza stessa in termini di flessibilità, una trascrizione che inevitabilmente in Francia interferisce con i modelli di soggettivazione, classificazione del contesto. Con l'espressione cittadinanza flessibile si evidenzia infatti l'ambivalenza degli effetti dei dispositivi governamentali. Questi oscillano tra l'assunto della presunta presupposta libertà e l'autonomia dei governati e la concreta fragilità delle pratiche che esplicitano queste libertà e potere, sulle quali appunto si innestano conseguentemente distanze di dipendenza e di etorologia. Riprendendo quindi il caso di Hong, i rifugiati raccontati dal loro arrivo in terra americana sono trattati in regime di razionalizzazione. Questo significa che il dispositivo governamentale funziona classificando l'epoporazione, in base a categorie culturali e sociali, ma anche etnoraziali. Lo scopo non è però semplicemente repressivo e studente. Anzi, tuttanto, la classificazione etnoraziale ha finalità per inclusive e differenziali perché essa mira a valutare in primo luogo il potenziale occupazionale dei governamenti. Ovviamente l'obiettivo è in questo caso il lavoro flessibile a basso posto. Quindi, possiamo dire, i rifugiati camboggiati, per i quali gli Stati Uniti rappresentano in ogni caso la terra della libertà dopo la disperazione e il totalitarismo, assumono in breve tempo la consapevolezza del ruolo in cui la nuova identificazione simbolica di destino. Il potere dello Stato democratico si mostra biopolitico, esercita la sua presa sui corpi oggettivandola in vista di un obiettivo di governo specifico, assumendone la cura, certo, ma per lo stesso disciplinandoli per un fine aver sceso. Quindi, diciamo, tutto questo avviene in un contesto giurito, i diritti civili e soprattutto i diritti di accesso alle condizioni sociali. Nella pluralità, naturalmente, dei diritti che si articolano intorno al concetto di cittadinanza, dei diritti non hanno naturalmente quindi dire i diritti politici, ma l'insieme di diritti di assistenza e di cura che potenziano la produttività e la vita. Naturalmente i camoziani intraprendono il loro percorso, assumendo su di sé l'immagine stereostrata, ad esempio degli operatori sociali, degli insegnanti e dei burocrati destinati proprio al percorso di socializzazione dei futuri stessi. L'inclusività governamentale mostra la sua capacità di accoglienza dall'alto, ma a calo mezzo. Essere governato significa entrare nella casistica occupandoli in una determinata posizione. Allora, l'assunzione su di sé un'identità simbolicamente costruita, appare come una necessità cui i governati non possono sottarsi. Eppure, nello stesso tempo, nonostante questo, assistiamo a pratiche tentativi di mettere in gioco una forma di identità strategica, non essenzialistica, che si definisce, si esaurisce in una rete di poteri e forze, irriducibile ad una dicotomia, identità, una rete relazionale, per esempio, irriducibile alla dicotomia, identità al territorio. Nel percorso, possiamo dire, di acquisizione di quella che è una buona cittadinanza, il dispositivo verfaristico medico, medico verfaristico, ha notevole peso nella identificazione e classificazione. All'interno del quale, però, pur seguendo i processi di socializzazione, i pazienti trambogiani negoziano con gli operatori una molteplicità di risorse. Il vocabolario dei diritti viene utilizzato al di fuori di una logica giuridica, quindi in modo economico, come uno strumento per ottenere beni, vantaggi, spazi di manovra. La negoziazione inserisce i nuovi e i gradi poveri in un insieme di rituali, di pratiche istituzionali, di opri dilutinari, qui, diciamo, cito la ONG, che diventano imprescindibili per imparare a ricollocare i termini della pertenenza. Le pratiche sostituiscono, possiamo dire, gli universali giuridici e rispetto con un forno di vita. Tutto, però, si svolge ai limiti della legalità e spesso anche la chiesa. Cioè, l'immaginario nel quale le popolazioni dove tanti si identificano si intriga. Abbiamo forme di renezione della fede, che per esempio dal buddismo trascolora verso la religione mormonica, imprese a condizione familiare che vengono portate avanti pur continuando a percepire il sussidio, l'adesione alle lingue d'upame e contemporaneamente ha condotto in lice e lice alle polisi sociali e situazionali. In questa trama di riduzione, quindi, si intravega, possiamo dire, il tentativo di stare dentro alle identifizioni governamentali, ma anche di tendere verso percorsi alternativi, rispetto a quelli, appunto, destinati alla forza lavoro al passo posto di sviluppo della banca. Quindi, per concludere, possiamo dire che, nel quadro di questa potentissima macchina governamentale, i dispositivi di governo e le soggettivazioni che si mettono in atto in cui dispone non sono in grado di effettuare davvero le oggettivazioni e le classificazioni che sono chiamate a formare. Resta disponibile in un ambito di resistenza, possiamo dire, che riunia ad un margine di deidentificazione che si apre ogni volta in ogni processo di identificazione simbolica e che risulta più evidente in queste forme di ricostruzione, possiamo dire, per identità. Già nelle pratiche che abbiamo portato ad esempio si evidenza la sconnessione nella razionalità governamentale dell'istituto, per esempio, della cittadinanza, come dicevamo, dalle definizioni identitarie e dunque di per sé, per definizione, escludenti e che hanno rappresentato per lungo tempo il perno della categoria di cittadinanza. Ora, quindi, per andare alla conclusione, questo sono semplice. I processi di identificazione quindi, possiamo dire, non si sovrappongono in queste dimensioni, non coincidono alla definizione con le esperienze stesse di chi ne è investito. Il rifugiato non aderisce più alla rappresentazione potremmo dire immaginata, costruita dal discorso inclusivista di diametri. Diciamo, non che quello immaginale però non funzioni da supporto al suo inserimento nel contesto sociale, ma rimane una distanza, possiamo dire, che mina pericolosamente la compattezza identitaria al soggetto, mettendo la rischia di scizione, di separazione, ma io offre anche ambiti di di coesistenza, di compatibilità, spazi di negoziazione. Diciamo, per concludere veramente, la rappresentazione che viene offerta al rifugiato viene assunta per essere rielaborata, negoziata nella forma della resistenza e della soggettazione autonoma, magari attraverso comportamenti che fuoriescono dalla legge senza però trasverirla frontalmente. Possiamo dire, non c'è radicalità, non c'è frattura, ma transazione e incontronesso. L'autoaffermazione dei comportamenti di mediazione e di negoziazione, dei diritti ma anche dei beni, degli spazi e così via, impedisce però a mio avviso la politicizzazione di queste sottolineazioni. Grazie.